ha 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 ha... Jess! D'ora di anima? no, cricchetto! che te li sta venendo? una bella idea strana! ti faccio vedere io! Jess! Cricchetto impazzito! guarda! ... ... ... ... ... ... E' un momento di che fare, un piquetto. Un di te, un di te, un di te, un di te. Non ci sto muovendo. Oh no, vuoi te la che giocare. Oh no. Non c'erreissimo. Non ce bollisca. Non c'erreo. Non c'erreo. Non c'erreo. C'erreo? Non c'erreo? Non c'erreo? Non c'erreo? andiamo, andiamo, andiamoci andiamo un cecchio, sono fortunato, un cane, una fortuna, una stella, ce la posso fare? un'altra 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 non, 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 non Buongiorno che è stato a fare una cucetta? guarda cosa sta succedendo come forza? guarda cosa sta succedendo guarda cosa sta succedendo guarda cosa sta succedendo Non ci farò vedere le macchine, non lo sapete, non lo sapete. Non lo sapete, non lo sapete! Non lo sapete, non lo sapete! Ma righte! ah! ah! ah ah! ah! Grazie a tutti. wow che fantastica storia vero gesù si una fantastica storia ma tu lo sai che giocare con i McQueen non vincerai mai caro righetto non sappiamo che sei bravissimo Siti andiamo a fare i nostri giochi preferiti ciao si andiamo grazie a tutti Grazie a tutti.